RBI Radio TV da Asti per la Duia d'Oro 2022, domenica 11 di settembre, prima delle due domeniche della rassegna del rituale astigiano che celebra un territorio, celebra la tradizione, celebra anche l'innovazione. Innovazione e formazione non fanno solo rima come termini ma anche come voglia di innovare mantenendo le radici ancorate al territorio. E l'innovazione si fa anche con la formazione direi come abbiamo detto poco fa, di formazione parliamo con Daniele Aluffi, ciao Daniele. Ciao ciao. Daniele tu rappresenti un istituto in particolare, parliamo di formazione, come si chiama l'istituto e dove si trova? Si chiama AFP, Collina Stigiane, un'agenzia di formazione che attiva da 50 anni, le compie proprio quest'anno, la sede storica ancora attiva ad Agliano Terme, abbiamo una succursale ad Assi di ormai da una dozzina d'anni. Agliano Terme, siamo quindi in Monferrato, dove si trova? Confine tra Langa e Monferrato, poco a sud di Assi. Formazione quindi, formazione nel campo della ristorazione, della ricezione, abbiamo parlato molto di prodotti finora, abbiamo parlato molto di brand, quindi di mostrarsi a coloro che vengono ad Asti per commercio, per business, insomma sappiamo quanto sia importante rappresentare. Abbiamo milioni di bottiglie che rappresentano l'Astigiano, come accogliere qui, immagino sia una delle vostre sfide, come accogliere qui tanti turisti, coloro che vogliono scoprire il territorio astigiano attraverso la ristorazione? Sì, il nostro obiettivo è proprio quello di formare dei ragazzi che siano in grado di accogliere i turisti, che sappiano la ricchezza del territorio in cui vivono e siamo capaci di offrire un'esperienza che sia dal lato della cucina oppure dall'importantissima accoglienza di sala. E quindi noi abbiamo questi corsi che vanno a curare entrambi gli aspetti. Ecco, quanti ragazzi si apprestano a iniziare l'anno scolastico e che partirà domani? In realtà siamo già in corso perché stiamo lavorando qui per la Duia, è una bellissima vetrina per i nostri ragazzi che si sentono valorizzati, come giusto che sia. I corsi partiranno successivamente dopo una breve pausa dovuta a questa manifestazione. Noi abbiamo nelle due sedi di Agliano Terme Asti circa 300 studenti, quattro corsi che partono ogni anno di prima e anche il diploma per una sorta di specializzazione per i nostri ragazzi che prendono dapprima la qualifica di aiuto cuoco o cameriere e poi un diploma che li lancia ancora più esperti e preparati nel mondo del lavoro. Teorie e pratiche assolutamente viaggiano insieme, evidentemente nel vostro campo della formazione, prospettive per il futuro, innovare, mantenendo quelle che sono le proprie radici anche nel campo della ricezione e della ristorazione. Immagino anche questa appunto sia la sfida. Sì, assolutamente sì, i nostri ragazzi sono preparati dal punto di vista pratico tantissimo, metà dell'anno scolastico lo passa nei laboratori, questo è fondamentale perché poi negli ultimi anni vanno a fare qualche stage, qualche esperienza di lavoro, devono essere capaci, devono essere una risorsa, devono sapersi valorizzare sul territorio, anche all'estero con i nostri progetti Erasmus, quindi li mandiamo ovunque, il più possibile. Bello, c'è anche l'Erasmus, una bella esperienza. Quanto ha influito la comunicazione nella voglia dei ragazzi e delle ragazze di intraprendere questo percorso di studi, comunicazione social, insomma sappiamo quanto sia importante, quanto sia rappresentato anche sui media questo territorio e ciò che offre. Sì, è importantissimo, poi con la scuola gli si dà un'idea perché a volte a vivere in posti così belli, così ricchi di iniziative, di peculiarità, alla fine uno si abitua quasi, invece noi cerchiamo di arricchire i ragazzi e fare il presente che potendo davvero entrare nell'argomento e saperlo spiegare ai turisti è la cosa fondamentale, sui social... Tutte le informazioni per poter iscriversi, per avere insomma delle altre informazioni sui vostri corsi, come possiamo fare, dove possiamo trovarli? Abbiamo i social naturalmente, Facebook e Instagram e anche il nostro sito internet, basta cercare AFP Colline Astigiane. AFP Colline Astigiane, abbiamo avuto il piacere di presentare questa bella realtà formativa, formazione, innovazione e territorio. Daniele Alufi, buon lavoro Daniele, in bocca al lupo, vive il lupo, ciao! Grazie, grazie.